Ciao ZirFamily, io sono ZirVanilla e oggi apriremo insieme la mia primissima degusta box Ma voi sapete cos'è una degusta box? Ora ZirFamily and welcome back to my channel Ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super degustissimo video Ebbene sì perché come avrete ben capito oggi andrò ad aprire insieme a voi la mia primissima degusta box Ma che cos'è una degusta box? Una degusta box è una scatola misteriosa, quindi una mystery box Contenente dai 7 ai 14 prodotti che potete trovare al supermercato Che la maggior parte sono delle novità, quindi delle novità dal supermercato Ha un prezzo che può variare dai 14 ai 7 euro con il codice sconto Il codice sconto non me lo ricordo, se lo trovo ve lo metto qua sotto E quindi niente raga, prima di cominciare a unboxare questa super mega box piena di cibo Se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciatemi un bel like Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica ZirFamily Iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network O meglio Instagram e la mia pagina TikTok Ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare Perché se mi followate vi terrò compagnia con foto, post, story, stress, disagio e tanto altro In più ho aperto anche il mio piccolo shop vinte Dove do una seconda vita a tutte le cosine che non utilizzo più Quindi se volete andarmi a trovare qua sotto c'è il mio nickname Raga sono emozionatissimo perché questa è the Gustabox È una vita che ne sento parlare E questa qua è la mia primissima Cioè non vedo l'ora Cosa altro volevo dirvi? Mi vedete ancora in una postation natalizia Però già come vi dicevo Cerco di tenere almeno fino a metà gennaio Perché purtroppo in casa sui Vanilla È arrivato il Covid Il mio fratello è stato consaggiato E il mio Natale è un po' ondato Un po' così tra le stelle Cioè no raga un Natale così mai più Veramente Non vedo l'ora che sia il prossimo Natale Per festeggiarlo dignitosamente Veramente è un Natale da dimenticare E quindi niente Io direi di cominciare Forvi c'è la mano E unboxiamo Allora Vi faccio vedere il packaging Che è bellissimo E guardiamo subito cosa si nasconde Su l'interno Ci sono le varie box C'è quella di dicembre C'è quella di gennaio Io ovviamente ho preso quella Cioè nel senso io l'ho ordinata a dicembre E mi è arrivata ai primi di gennaio La box di dicembre Vabbè dettagli Ok Impacchettata benissimo Perché c'è anche una carta protettiva Poi ci sono varie cose Che adesso vi faccio vedere Vari Ehm Brochure Sono Professional Ci sono varie brochure Anche di vari prodotti Che si possono trovare all'interno Poi c'è anche L'edizione di degustabox Però dovrebbe essere Quella cold Ehm Quella Tipo Quella roba surgelata O fredda Comunque Ehm Poi che cos'è Regala Ah si Una brochure natalizia Per fare un regalo particolare Carina Così un po' come un cesto natalizio E poi vi danno anche Ehm Un foglio Con tutto il contenuto della box Con i vari prezzi Del valore di mercato E poi anche Un minigame Ok Io non mi spoilero nulla E cominciamo Come primo prodotto Abbiamo la piadatina Raga Questa qua è pazzesca Io l'ho già assaggiata È una piadina Fatta a mo' di patatina Buonissima È super Cioè Wow Poi Come le vere influencer Una fornitura di Fit Via Adoro Orange Berries Limity Siccome inizierò la dieta Sì devo iniziarla Perché devo andare a nozze Di conseguenza Devo vestire un po' così Un po' scicchettoso Mi serve un po' di magrire Perciò comincerò questo Questo trattamento Fit Via Solo perché è dentro la box Perché se no non vado a comprarlo Sicuramente E sono curioso Questo qua dovrebbe sapere Di Orange and Berry Poi 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 Anche per i più piccoli E per i più golosi Cioè Raga proprio Cominciamo col botto La dieta Questa fornitura Di Chupa Chups Fun Party Mix Che praticamente all'interno Ci sono 22 pezzi Tra Chupa Chupa Goliador Chucho Fritz Fruttella Eccetera Poi due pannette Queste qua Una panna Gran Cucina Light Quindi giusta Giusta per la dieta E poi una panna Gran Cucina Normale Della pasta Questa qua La pasta pezzullo Dovrebbe essere pasta di Napoli Se si Oro di Napoli Poi Guardiamo Ah Altra pasta Pezzullo Mi caso pezzullo E sono gli spaghettoni Per qualche pranzetto Per qualche cenetta Del bicarbonato Di sodio alimentare E insieme al bicarbonato C'era anche una piccola Brosciuta Mi hanno allegato Vabbè Comunque Vi do un segreto Per il bicarbonato Se si avete i capelli unti O Con la forfora Viene frizionato Un po' sulla testa Difatti io non ne faccio Uso di bicarbonato In cucina Ma lo utilizzerò appunto Per i capelli Che mi tendono All'unto Al grasso Insomma Ci posso condire Una Una scodella Di insalata Comunque Questo qua è veramente ottimo Per fare questo trattamento Poi 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 Oh Alcol per bruciare il virus No vabbè Sto Ridendo E scherzando C'è questo cocktail In busta E L'americano E Sono curioso di provarlo Magari una sera Magari un sabato sera Che sono a casa Un po' così In relax Lo approverò Assolutamente E poi ovviamente Ci faccio anche un video Su TikTok O magari su Instagram Ecco Questa non mi piace Io non sono un amante Della birra Però c'è anche La birra Questa 8.6 Carino Anche il packaging Un po' In 3D Un po' Così Un po' ASMR Bellissimo E la darò a mio papà Perché lui Vabbè La birra piace Poi 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 Ma ragazzi C'è un sacco di roba Poi Ci sono Dei Snowflakes Della L'Hacker Uh Buona Questa Tra l'altro Devo fare anche Un TikTok Con una Cupcake No Tipo una tazza Tipo Starsback E voglio usare Questa panna La spray pan Al cioccolato Cioè Wow Poi 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 Della Vittors Che tra l'altro È una fabbrica Che è proprio qua A due passi Da casa mia Questo Cioccolato Nero Sublime Al 62% Di cacao Super Extrafondente Quindi anche Per la dieta Un cubetto Alla sera Fa benissimo E per finire Per finire C'è Raga Ma Un pacco Semidietetico C'è questa Barretta Super golosa 90 kcal Che prenderò Per andare al lavoro Della Serial Buona Carina Mi piace Raga Bellissimo Questa prima esperienza Con De Gustabox Ve la consiglio Perché Non sapete mai Cosa vi salta fuori Quindi Provatelo Magari però Se volete provare Il mese prossimo Cioè Quindi vi arriva Questa di gennaio E chissà cosa si nasconde In questa di gennaio Sono curioso E quindi niente raga Questo qua era tutto il bottino Che ho trovato Anzi contiamolo Un pezzo Poi La birra Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Se volete far parte Anche voi Della magica Swirl Family Iscrivetevi in tantissimi Al mio canale Youtube E inoltre Vi aspetto anche Su tutti i miei social network O meglio Instagram E la mia pagina TikTok Io per adesso Vi mando Un super mega kiss Swirloso A tutti E noi ci vediamo Prossimamente Per un altro Fantastico Video Ciao Swirl Family Ciao